La posizione è sempre quella, quella che esprimemmo anche nel 2010 quando lo stesso progetto fu presentato e nel 2011 rimandato a casa. Purtroppo il decreto Passera, come sappiamo, ha rimesso in pista parecchi progetti tipo Elsa 2 e ritorniamo insieme alla Lipo, alle Gambiente, alle Riserve, al FAI a ribadire il nostro secco no andando nel merito del progetto. Che ha diverse incongruità, una fra queste, forse la più eclatante, che loro perforano un pozzo a ridosso di un altro pozzo già perforato dall'Agip negli anni 90. Per sapere cosa? L'Agip ha già fatto un'indagine abbastanza dettagliata di quell'area, arrivando a delle conclusioni che dovevano portare a indirizzare la ricerca magari in altre zone dell'area di permesso, non a poche decine di metri dal pozzo Elsa 1.